Venga qua, le presento, anche lui è ipertricotico, porta sta zampogna sulla capoccia. Allora, gliel'alzo un attimo, così. Vediamo chi arriva più in alto di voi due. Come si può fare in questi casi? Facciamo un vocalizzo e andiamo cromaticamente verso l'alto. Fammi suonare il bass. Sì, ok, è meglio, è vero. Proviamo un po'. Pure devo riparare. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bravo, bravo, bravo. Grazie a tutti.